Fotografie, pitture, sculture, installazioni, opere diverse realizzate da vari artisti noti ma anche alcuni emergenti. Lavori esposti in occasione di una mostra collettiva di arte contemporanea all'interno della Galleria Civica d'Arte del Palazzo Moncada, dal titolo Bridges, Ponti, Attraversamenti Trasversali. La mostra è iniziata lo scorso giovedì 6 aprile e che rimarrà fruibile sino al 15 aprile 2017, racchiude opere di artisti nisseni ma anche di Rochester. La città con cui Caltanissetta da anni è gemellata. I ponti sono quegli strumenti che ci consentono di superare i nostri limiti e quindi esplorare territori nuovi, territori che ci consentono di allargare i nostri orizzonti, i nostri punti di vista. Attraversamenti trasversali perché si fa riferimento ai fiumi che passano attraverso i ponti, che attraversano sotto i ponti che sono anch'essi attraversamenti trasversali. Il fiume ha quella caratteristica di inondare due territori magari differenti, di penetrare nel proprio tessuto, di nutrirli e nello stesso tempo di ricevere sostanze che vengono poi distribuite in altri luoghi. L'arte ha proprio questa funzione, è come un fiume l'arte che invade i territori, entra nelle profondità, nell'interiorità profonda delle società e ne tira fuori degli aspetti, delle storie, delle scorie e anche tutte quelle caratteristiche che altrimenti rimarrebbero non rivelate. L'arte ha proprio questa grande capacità di svelare il non dicibile. La mostra nasce dall'esigenza di allargare gli orizzonti con la nostra città gemella, città con cui c'è sempre stato uno scambio da 52 anni a questa parte. Si è pensato di allargare queste relazioni anche in altri ambiti, compreso l'ambito dell'arte e delle arti visive.